Io sono Giuseppe Floridia, uno dei soci della Biosolnatura SRL, un'azienda che produce confetture e marmellate biologiche che si associano molto sia anche ai formaggi per fare degli aperitivi o degli antipasti particolari, il nostro cavalli di battaglia ad esempio confettura di pomodoro e ciliegino biologico, di peperoncino rosso, arance e rum, cipolla, pere e cannella, facciamo melanzana, vaniglia e pistacchio, oltre alla linea delle confetture di arance, arance rosse, clementini, mandarini, quindi una varietà di 23 referenze che sicuramente potranno far piacere al palato di molti sia locali che fuori da Catania. L'azienda nasce a Carlentini, era un'azienda già esistente, io e i miei tre soci, Saro e Giuseppe, rileviamo l'azienda nel novembre del 2013 perché cerchiamo e crediamo di portare non solo in Sicilia ma in giro per l'Italia e per il mondo quella che è la cultura della nostra terra, cioè le arance delle nostre zone, i prodotti biologici della nostra Sicilia che per tanto tempo sono rimasti diciamo martoriati anche dai commercianti che dal nord arrivano e cercano di portarsi via la materia prima, invece noi la materia prima la trasformiamo in Sicilia e facciamo degustare già il prodotto trasformato cercando anche di fare rete con le aziende agricole così da valorizzare anche il prodotto locale.